Per tanto tempo hanno fatto la storia del nostro calcio, oggi Bologna e Torino giocano per la salvezza Amici sportivi un saluto per questo anticipo della sedicesima giornata della campionato di Serie A da Riccardo Gentile e Vincenzo Guerini Grande mucchio in area di rigore, difficile trovare spazi qui, battuta lunghissima da parte di Colombo Attenzione, mucchio in area di rigore, il destro e la rete, il vantaggio del Toro Passa il Toro con Parone 1-0 Coeio, Mudingai, tocco largo, attenzione, possibilità per Baliani Subito la risposta del Bologna, fa giù Sereni Abate, come sempre bravo ad andare via, palla al piede, buona il tocco dentro, attenzione, Bianchi La chiusura di Antonoli, ottima l'uscita bassa Riparte sulla corsia di sinistra il Toro, attenzione a parte, sempre straordinario, palla al piede Lascia partire il cross, a cercare Diana con il petto lanna, Antonioni evita l'autogol Ottio a Coeio, ha trovato il sinistro, buona iniziativa Calcio d'angolo battuto, ancora Gemay Lee protagonista, lascia partire il cross, colpo di testo, Antonioni, salva Attenzione Avanza Volpi, verticale, di vario, attenzione, possibilità, Marazzina, Marazzina Fino in fondo, Marazzina, arriva anche Volpi, mette dentro, deviazione, retta Il pareggio del Bologna, ha proprio Volpi, 1-1 con deviazione Si allarga a testa, velocissimo, abate come sempre La fuga di abate, una freccia fino in fondo, attenzione, abate fino in fondo, mette dentro E retta, retta, abate, anche qui una deviazione Calcio d'angolo però per il Bologna, decimo minuto della ripresa Pallone dentro, Marazzina gira, attenzione, mucchio, retta Ancora Divaio, ancora Marco Divaio, 2-2, partita incredibile Ottimo il tocco per Divaio, attenzione, e ora è Divaio, 1-1 con Colombo Divaio, Divaio, 2-2, all'anno di Marco Divaio Attenzione, Sereni, si complica la vita, Bernacci su di lui Colcio di rigore Bernacci, parte Bernacci 4-2 Divaio, porta palla, Bernacci taglia, il pallone per lui, è perfetto Bernacci giù, calcio di rigore ancora, destruzione stavolta Il fischio di Rocchi Parte Divaio, retta, tripletta 12 gol in campionato Fa su il pallone, senza recupero, con tanto consenso direi Rocchi dice che può bastare, 5-2 per il Bologna